Mi vaccino contro il Covid-19 perché voglio proteggere me stessa e i miei cari. Voglio abbracciare mia mamma e mio papà. Voglio poter di nuovo girare il mondo. Voglio vedere i miei amici e familiari. Voglio che i miei figli possano andare a scuola. Voglio che le aziende locali rimangano aperte e diano lavoro a più gente. Voglio riallacciare i rapporti con il mondo e vivere la mia vita senza il Covid. Quando un numero sufficiente di noi sarà vaccinato contro il Covid-19, la vita sarà migliore per tutti. Mi vaccino per dire addio al Covid. Addio 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 Covid.